Alla zona di Banne, anche qui, sono comparsi i tronchi a delimitare appunto quest'area. La vediamo il gesto rivendicato dalla comunella di Banne. La telenovela dei tronchi si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, quello di Banne, dopo il caso di Basovizza, dove in pochi giorni sono stati più volte posizionati, tolti e poi rimessi gli alberi e i massi per impedire il parcheggio delle auto in quell'area rivendicata dalla comunella. Un problema ben noto anche a Roberto Cosolini, che cinque anni fa da sindaco presentò un progetto per realizzare un parcheggio in quell'area, poi mai portato a termine per problemi di natura economica, neppure dall'amministrazione successiva. Sì, c'era anche un'esigenza di creare delle aree parcheggio a Basovizza, perché Basovizza è in particolare in determinati momenti della settimana piuttosto affollata. Da un lato credo sia, voglio dire, legittima sicuramente la posizione di chi, rivendicando la titolarità della proprietà di quel sito, chiede probabilmente un riconoscimento da parte del Comune, forse può essere necessaria un'intesa anche simbolica che la riconosca. D'altro canto va detto che di quel flusso di persone che frequentano Basovizza vive anche una microeconomia locale. Al di là del progetto naufragato, l'ex sindaco auspica una soluzione non attraverso le vie legali, ma con il dialogo e il raggiungimento di un accordo tra Comune e Comunelle. Ragionevolmente credo che Comune e Comunelle possano e debbano trovare un'intesa su un tema che è il rapporto tra l'istituzione e, diciamo così, il riconoscimento storico delle Comunelle, è un rapporto complesso. È sempre meglio, piuttosto che perseguire la via giudiziaria, è sempre meglio la via della ricerca di un'intesa. Grazie. Grazie.